Si è riunita nei giorni scorsi la Commissione Sanità per fare un po' il punto su quelle che sono le tematiche relative all'ospedale e alla sanità alicatese e il NURS indeciteneva a far sapere il suo punto di vista. Noi più che tenerci a far sapere il nostro punto di vista ci auguriamo che chi di competenza si muova, quindi non riteniamo opportuno intervenire quando vediamo che delle cose si muovano. Però ci sembra che ci sia un assoluto immobilismo, non vediamo nessuna iniziativa concreta e non vediamo delle proposte che siano possibili e fattibili per tenere il punto nascita aperto. La prossima settimana ci sarà di nuovo una riunione all'assessorato per ribadire la chiusura del punto nascita e rimarrà allicata solo aperta l'attività ginecologica. Ecco, nella Commissione Sanità, nel Consiglio Comunale, nelle forze di opposizione e anche quelle di maggioranza intraprendono delle iniziative atte a scongiurare questo, ma non da sole, da singolo, ma tutti insieme. Quindi, considerando questo fatto, noi riteniamo di poter essere un collante per unire tutte le forze politiche e sindacali ad un obiettivo comune. Tra l'altro è stata richiesta anche la seduta aperta di un Consiglio Comunale proprio per discutere tutti insieme di questo gravoso problema. Sì, ci stranizza che non si sia fatta una seduta comunale straordinaria aperta per un problema che è veramente molto serio. In altri posti, prendo ad esempio Mussumeli, sono tutti uniti per difendere l'ospedale. Ecco, l'unico punto nascita che si chiude in Sicilia è Licata e Cefalù. Ci sembra paradossale, comico, ci sentiamo presi in giro che un ospedale come Licata, ma anche come quello di Cefalù, siano gli unici due punti nascita che salvano la sanità in Sicilia e preservano da spesse economiche, diciamo così, esagerate. Quindi invitiamo la cittadinanza a sollecitare i nostri politici, anche alla luce delle europee, che ci diano delle proposte. Ma finalmente non facciamoci più prendere in giro.